Ciao, un breve video, così chi non è stato qui può vedere. Ma come si fa? Perché mi sono veramente ignorante. Lavalsugana.it, sito internet. Fra un po' di tempo, mio papà fino all'anno scorso non ha mai toccato un computer, quest'anno ha imparato e sta smanettando come un grande, quindi non si sa mai. Ma non è mai troppo tardi? Ma non è mai troppo tardi? Basta poco? Ma adesso da quattro giorni ho avvocato la riconscienza che ho fatto nella regione, allora potrei vedere se... ma la parte del risultato è che non è una maniera di tempo. Ma è vero? E anche l'arte si disse ogni tanto di non capire niente, ma è bellissima.